Novità attese da tempo per le sorti dell'ospedale civile di Agropoli che dopo la risita del governatore De Luca si sta avviando sempre più velocemente ad una riapertura che avverrà con certezza in questo mese. La novità più importante è che il personale medico è praticamente al completo, tutti i medici e gli infermieri sono stati reperiti ed individuati, manca solo un cardiologo. Una volta trovata anche questa figura professionale sarà il momento dell'inaugurazione per il presidio ospedaliero agropolese per il quale è stato confermato anche il pronto soccorso H24 per tutto l'anno. Altra piccola ma altrettanto importante novità è la dicitura comparsa sul sito dell'Asla Salerno che ora non riporta più Vallo della Lucania come unica parte del distretto sanitario ma viene specificato anche Agropoli come parte integrante del distretto sanitario 70 e non come costola del San Luca. Inoltre Vincenzo De Luca punta anche a far diventare la struttura di Agropoli un polo oncologico di eccellenza dopo il periodo buio nonostante tutto sembra esserci luce per l'ospedale agropolese.